Ciao, sono Casali Piergiorgio, vengo da Parma. Praticamente sono giusto qua perché ho avuto sempre problemi ai denti, andiamo indietro già da almeno 20 anni. Praticamente a un certo punto, 2019 mi sembra all'inizio del 2019, ho iniziato a cercare un po' su internet, vedere prima in Italia, casualmente ho trovato una pubblicità di Dottor Palmas, ho iniziato a guardare, ho detto no sai, in Moldavia era un problema. Allora ho guardato prima in Slovenia, poi cosa ho guardato? In Croazia, ho provato a vedere dei preventivi, ma insomma, in Italia dei preventivi allucinanti, finché ho chiesto, mi sono fatto coraggio, ho detto proviamo la Moldavia, ho chiesto un preventivo al Dottor Palmas, SOS Reabilitazioni Dentistiche, sono venuto qua, poi a fine ottobre mi sembra, sono arrivato, mi hanno fatto preventivo, si discostava di poco rispetto a quello che mi avevano fatto in Italia, giustamente rispetto a quel preventivo che mi avevano mandato in Italia, perché comunque si, poi va comunque visto sul luogo, però mettere poi tutti gli impianti e mettere i provvisori, quando ho messo i provvisori mi è sembrato di vivere in un altro mondo, perché ti cambia completamente la vita, quindi no, è stato bello, anche il soggiorno tra l'altro, perché comunque ai tempi si faceva, insomma, le feste così, si stava bene. Grande il Dottor Palmas, grande correttore. Sicuramente devo ringraziare il chirurgo, i medici che mi hanno curato, il Dottor Palmas che si è studiato questa cosa, che ha messo su questa clinica e tutti voi che ci seguite, insomma, nel percorso, insomma, dal venirci a prendere all'aeroporto fino a riportarci là tutto quello che c'è in mezzo, quindi l'albergo, l'appartamento.